Cosa sta accadendo al mondo delle criptovalute? Sono credibili i warning che stanno arrivando da alcune settimane, soprattutto da parte di contenitori di informazione finanziaria indipendente ed anche dalla stampa finanziaria internazionale che parla di preoccupanti analogie con la bolla delle dot com verificatesi a cavallo tra il 99 e il 2000. Vediamo assieme alcuni parametri tecnici di lettura che ci possono comprendere se le nubi che si stanno addensando attorno a noi ci porteranno a vento di tempesta. Partiamo con la capitalizzazione complessiva del mercato che è crollata, non caduta, crollata di 50 punti percentuali dai quasi 1.000 ai 500 miliardi attuali. Tutte sostanzialmente le principali criptovalute hanno subito pesantissime contrazioni alle proprie quotazioni. Secondo elemento di considerazione, il percentuale di dominance del bitcoin che nel giro di due mesi abbondanti è passata dai 66-67% quando la capitalizzazione del mondo era sui 200-300 miliardi di dollari agli attuali 32-33 e questo deve far comprendere come l'apporto di nuovo capitale di rischio che è arrivato sul mercato delle cripto è stato spalmato sostanzialmente su quasi tutti i competitor del bitcoin. Rivedremo un bitcoin nuovamente pimpante e tonico solamente se questa percentuale in qualche modo ritornerà a riportarsi a livelli precedenti il periodo pre-natalizio. Terzo elemento di considerazione, i Google Trends. Guardiamo adesso quante volte è ricercata la parola bitcoin o la parola bubble bitcoin. Bitcoin è bolla. Scopriremo che nel periodo appunto pre-natalizio era uno degli argomenti tematici di cui maggiormente si parlava non solo nelle relazioni sociali tutti i giorni ma addirittura anche nei media televisivi e per questo motivo possiamo essere sicuri che questa attività di riverbero mediatico ha generato il gas per il pump price vale a dire ha dato iniezione, ha portato carburante affinché le quotazioni potessero prendere il volo ed è quello che è accaduto quando questo gas è terminato abbiamo assistito alla pesantissima contrazione del 22 dicembre. Ultimo elemento significativo di riflessione è l'attuale conformazione grafica del prezzo del bitcoin della sua quotazione che è caratterizzata da una struttura tecnica molto precaria con massimi decrescenti questo significa che se l'attuale soglia di circa 10 mila dollari non fosse in grado di contenere la pressione ribassista è molto plausibile aspettarsi per le prossime settimane un proseguo della caduta con un'ipotesi di primo prezzo capace di fermare le pressioni alle vendite in area 5 mila dollari capirete perfettamente che da 20 mila a 5 mila stiamo parlando di 75 punti di correzione di crollo di caduta chiamatela come volete in passato è già accaduto nel 2013 un episodio similare ovvero sia il dal 2013 al 2014 il bitcoin che prima si porta a 1000 dollari e poi lentamente scende fino ad arrivare alla soglia dei 250 dollari costruisce un zoccolo duro quel livello di prezzo perché consente poi successivamente non dico la ripresa ma la capacità di ricostruire nuovamente una propulsione rialzista sarà da capire se anche gli interventi di normativi che arriveranno da parte di enti sovranazionali e governi andranno ad impattare e peggioreranno graficamente l'autoluc complessivo a questo punto si tratta veramente di aspettare ancora forse qualche dozzina di sedute di negoziazione e avremo la capacità di poterci esprimere sulla tenuta degli attuali 10 mila dollari di quotazione